ciao buongiorno a tutti noi siamo le educatrici del progetto habitat microarea ci troviamo a melara per quanto riguarda le persone che di solito vengono da noi diciamo che sono che spaziano in tutta la fascia d'età delle persone abitanti qua melara quindi sia i bambini e gli adolescenti le persone adulte e le anche le persone anziane e soprattutto vengono per stare in compagnia perché è un punto di riferimento anche per quanto riguarda l'ascolto che è molto c'è la gente ha veramente molto bisogno di qualcuno che li ascolti non li senta li ascolti ci sono alcuni casi a cui vado a fare la spesa o li accompagno alla posta al supermercato vado a prenderli a casa per farli partecipare alle varie attività e non solo vale la spesa andiamo a prendere anche le metodi medicinali in farmacia la cosa principale è ascoltare dei bisogni delle persone in primis quindi mettersi alla loro disposizione siamo patrizia e barbara e vi aspettiamo in habitat microare presso il portierato sociale di melara in via pasteur 7 barabì